Tornano ad alzare la voce residenti del viale della stazione a Sulmona. All'indomani dell'ennesimo temporale estivo che ha mandato in tilt il piazzale della stazione ferroviaria, provocando non pochi danni alle vicine attività commerciali, i cittadini chiedono all'amministrazione comunale e agli organi preposti una maggiore manutenzione. Quello che auspichiamo è che si arrivi a una riqualificazione del quartiere in Calzadino di Loreto, titolare dell'edicola. Gli amministratori abbiano un occhio di riguardo perché questa non può essere una stazione di serie B, deve tornare ai livelli di 20 anni fa, aggiunge l'edicolante. Invitiamo alla nuova aggiunta comunale di un occhio di riguardo per quanto riguarda questa stazione. Lo so che è stata decretata di serie B, però in qualche modo cerchiamo almeno di ritornare al livello di 20 anni fa, perché qui veramente i tombini una volta intasati producono un fiume in piena, come il fiume rapido che stava vicino Cassino durante la Seconda Guerra Mondiale. Si è allagato tutto. I problemi segnalati dai residenti riguardano principalmente le condizioni del manto stradale che si presenta con dossi e buche, un vero e proprio pericolo per gli automobilisti e per i pedoni, se si considera anche la scarsa accessibilità nei pressi dei marciapiedi. Da viale della stazione chiedono una maggiore manutenzione ordinaria per quanto riguarda la pulizia dei tombini, onde evitare ripetersi di fenomeni di allagamento. Un appello ai nuovi amministratori è partito anche dal Comitato Sulmona, stazione di Sulmona. Massima attenzione per la stazione, tuonano dal Comitato, perché sia i pendolari che coloro che vengono a farci visita possano godere del servizio di trasporto pubblico in maniera ottimale senza inconvenienti.